Guardate che spettacolo! Sono tutti i fratelli e gli amici del Super Primer che hanno filmato una stagione da uno. I ringraziamenti da parte di Tiziano Treta, Andrea della Giori Sibiria, ma anche della vostra consola. La voce di Rapa, il sole delle pagine. E da quello che ho capito, senza le voci al vento non si muove una foglia. Questa è e sarà la domenica gilda, anche d'estate. E tutto il resto è noia. Vi voglio protagonisti al vertice della scena. Segui la voce Italia. La domenica notte Italia estiva sarà bella. Sono di questo. Noi ci saremo. Ringraziamenti speciali alle pubbliche relazioni. Che hanno sbagliato la domenica. Io volevo ricordiare. Adesso, Andrea della Giori Sibiria, Sipo Treta, Rapa Elegio Cili, Federico Gay. Gruppo K, Marco e Seppo, Lui e Lago. Da Luca Cervo. Da Milota e Lago Trucco. Lei, Gigi, 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 Gigi. E le gambe cominciano a fonarsi. E le gambe cominciano a fonarsi. E le gambe cominciano a fonarsi. E le gambe, le gambe, le gambe, le gambe, le gambe, le gambe cominciano a fonarsi. Welcome to the pleasure party. Sei special, sei in, sei su, sei lì. E lì, 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 lì. E lì, 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 lì. E lì, lì, lì. E lì, lì, lì. Ciao, ciao.